Buongiorno a tutti e bentornati al mio Tama Diario sul Tamagotchi V4, V4.5 e Music Star, detto anche V6. Allora, cominciamo. Focus. Non ce la fa. Ce la facciamo? Ti prego dimmi di sì. Oh, ecco qua. Allora, abbiamo Evan sul V4, quinta generazione, ha un po' di fame e ha bisogno di giocare un pochino. Allora, scusate per le luci strane. Facciamo colazione coi cereali. Ok. E poi andiamo a giocare a qualcosa. Allora, provo ad accendere la luce e vedere se la situazione migliora. Scusate un secondo. Sì, un pochino è migliorata. Allora, cosa possiamo giocare? Lui è ancora nella sua fase di bambino, per cui ci sono due giochi. Salto alla corda. Giochiamo un pochino a saltare la corda e poi andiamo a vedere i punti che ha acquisito nelle tre abilità. L'abilità che voglio fargli acquisire è quella intellettuale, perché essendo un maschio, se entra nella famiglia mame da adolescente, posso farlo diventare mameci, da adulto, e quindi ottenere il personaggio 50 punti solo. Però è buono, ok. Per cui farlo diventare il personaggio speciale della famiglia mame. Vediamo le sue statistiche. 10 punti nella abilità intellettuale, che è quella che ci serve, e ha meno punti in quell'abilità. Per cui niente, dovremo lavorarci un po'. Ok, sta bene. Perfetto, andiamo avanti. Andiamo dal mio V4.5, che stamattina, poverino, si è svegliato non troppo bene, nel senso che appena svegliato c'era nella posta una vipera che l'ha morso, per cui ha la felicità sotto i tacchi. Però abbiamo ricevuto altra posta, andiamo a vedere cos'è. Speriamo non un'altra vipera. Ah no, è il re dei Tamagotchi. Molto bene. Si ed è meglio lo schermo su questo? Non so perché. Meglio così. Cosa abbiamo ricevuto? Makeup. Che non ci serve. Sì, vabbè, lui è felice lo stesso. Grazie re, però non ci serve perché A, lui è un maschio. Alex, non mi ricordavo che si chiamasse Alex. Prima generazione. È un maschio, quindi non può usare il makeup finché non è adulto, ma soprattutto non può usarlo. Cioè, anche se fosse una femmina, dobbiamo avere uno specchio, cosa che io nel negozio non ho mai trovato. Per cui, boh, comunque andiamo a dargli da mangiare. Qualcosina. Cereali anche per lui, dato che è mattina attualmente. E andiamo a giocare per far innalzare il livello di felicità. Quando la vipera morde, purtroppo diventano molto tristi. Allora. Giochi. Vi faccio vedere questo che è molto carino, secondo me. Bisogna saltare sulle nuvole. Anche questo, per ora, essendo nella fase bambino, ha solo due giochi disponibili. Per cui il primo sbloccato, che è questo. E poi il tiro alla corda. Tiro alla fune, quello che è. Qua bisogna saltare sulle nuvole e non cadere. Che è un gioco molto, molto, molto carino. E diventano sempre più piccole e vanno sempre più veloci. Bisogna saltarli 30 volte per vincere il gioco. Opa. 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 Beccavo. Opa. siamo caduti ma abbiamo ricevuto 200 punti per cui davvero niente male bravo alex ok e direi che si va bene la felicità siamo quasi la felicità quasi piena questi sono i le sue abilità che sono diverse rispetto che nel v4 e sono comicità poi la seconda non me la ricordo però deve avere a che fare qualcosa con l'arte o qualcosa del genere e spiritualità e per ora ha più punti nella spiritualità non so che lavoro può portare la spiritualità sinceramente comunque diamogli un altro snecchino dato che non è del tutto contento va bene la torta e entrambi sia il v4 che il v4.5 possono andare all'asilo perché sono nella fase di bambini andiamo all'asilo ma sì dai giusto per vedere un'ultima cosa work e l'asilo mi pare che sia uguale per entrambi cioè non cambia l'animazione la mia piccola castagna arriva all'asilo e incontra la maestra niente ha sbagliato la canzone ok lui sta bene andiamo dal music star in cui abbiamo Asia sta giocando col music star da ieri però già lo adoro cioè veramente molto molto carino a molti non piace non capisco perché allora prima di tutto puliamo e poi andiamo a controllare le sue statistiche i pulsanti purtroppo su questa versione non sono cioè non rispondono molto bene comunque non ha fame però ha bisogno di divertirsi il suo stress è abbastanza alto può arrivare fino a 99 e deve restare il più basso possibile queste sono le tre abilità musicali per cui tono ritmo e originalità che abbastanza alto però non abbastanza perché l'ideale è che quando Asia sarà adulta abbia tutte e tre le abilità al massimo per cui 999 punti così le sarà più facile trovare subito ingaggi musicali per cui per alzare il livello di quelle abilità può utilizzare il suo strumento eh che succede? che cos'è? chi? ah! è lui! crescita! ah! è cresciuto è diventato questo personaggio stranissimo è cresciuto in diretta e vai! bene grazie per questa sorpresa Evan allora torniamo da Asia può aumentare le sue abilità o suonando lo strumento può suonarlo per conto suo oppure potete farglielo suonare voi però il livello di stress aumenta per cui l'ideale è farla giocare a uno dei tre giochi musicali per aumentare sia il livello delle abilità sia per abbassare lo stress per cui music game sono tre giochi ognuno corrisponde a una delle tre abilità sound block è molto carino non ha strettamente a che fare con la musica bisogna solo saltare sui blocchi prima che scada il tempo per cui vedete abbiamo tre secondi e poi devo raggiungere il blocco con il quadrettino colorato ah niente farlo al cellulare è molto difficile però ha guadagnato dei punti vediamo se il livello di stress è diminuito logicamente giocare fa guadagnare anche felicità non riesco a trovare un'angolazione adatta allora stress 38 e la felicità non si è alzata molto allora possiamo fare questa cosa possiamo farla giocare un attimo con il suo giochino preferito che è questo vestito però lo stress si diminuirà ma diminuiranno anche le abilità però vabbè lasciamola giocare un pochino sfogarsi un attimo staccare un attimo la spina perché è solo una bambina farla esercitare tutto il giorno con il suo strumento non è giusto insomma il suo strumento è la fisarmonica all'inizio del gioco avete disponibili solo appunto un gioco e uno strumento poi andando avanti potete ricevere altri giochi o strumenti o dalla maestra in questo caso è stata la maestra a darmi il vestito oppure anche dal re dei tamagocci da quello che ho capito un'altra cosa che volevo fare con Asia stamattina era andare a caccia di cibo perché può sì mangiare il cibo per bebè e bere il latte per bebè però nella prossima fase della vita non potrà più utilizzarli l'unico modo per sfamarsi appunto acquistare dal dal negozio però vabbè richiede un sacco di punti e si parte con molti pochi punti e non riuscirmo ad averne finché non sarà adulta e quindi non le daranno soldi personale per cui vediamo quanto costa questo 220 punti abbiamo 5000 punti 200 dei quali regalati 200 no 2000 dei quali regalati dal re deluxe pudding no non mi interessa scone ne acquistiamo altri ah non li avevo presi proprio ah sì posso prenderli più volte ah bene non lo sapevo vabbè comunque comincio pian piano a fare le scorte per quando sarà adulta o comunque adolescente perché appunto è meglio cominciare con le scorte adesso bene penso che per oggi sia tutto e ci vediamo un altro giorno farò magari video piccoli così non impiegano 20 ore a caricare perché purtroppo la connessione non è il massimo qua a casa mia per cui vabbè piccoli video in cui farò un pochino ogni volta ogni giorno se volete vedere qualcosa in particolare ditemelo cioè se volete vedere appunto sul Tamagotchi Music Star appunto avete domande in particolare o anche sul v4.5 o il v4 anche se ne ho parlato già molto in maniera molto approfondita comunque voi chiedetemelo se volete vedere qualcosa in particolare o appunto se volete che nella prossima puntata faccia qualcosa specifica richiesta per cui intanto vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo molto presto questi tre ragazzini mi stanno piacendo moltissimo per cui farò un sacco di video su di loro aggiornerò spesso il mio tamadiario grazie a tutti per l'attenzione commentate fate domande mettete mi piace ci vediamo alla prossima grazie ciao ciao